Ciao amici di youtube, benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di Welcome to Miami Era da un po' che non facevamo un video così, diciamo in questo format Quindi sfruttiamo ecco questo nuovo singolo inedito di Max per fare quattro chiacchiere Ma parleremo anche dell'album, diciamo delle informazioni che si hanno Quindi toccheremo un po' di aspetti, cerchiamo di fare un video a livello di tematiche un po' diverso rispetto agli altri Non vogliamo solo criticare e criticare, quindi cerchiamo di toccare un po' di vari punti Ma prima di incominciare volevo ricordarvi che è disponibile su Amazon, vi lasciamo il link in descrizione Maxquiz, il primo libro di giochi su Maxpeziali, gli 883, in collaborazione con FMP Ma ci sono un sacco di persone all'interno di questo libro che hanno partecipato Quindi, ripeto, vi lasciamo il link su Amazon per l'acquisto Prima di parlare del nuovo singolo parliamo un attimo dell'album Quello che si sa attualmente, visto che ogni tanto commentate, ci scrivete Ma l'album è l'album, quindi ora diciamo tutto quello che si sa in questo preciso momento Allora, l'album uscirà, come detto già da inizio 2019, uscirà nel 2020 Il titolo ancora non si sa, questo l'ha detto Max nell'ultima puntata di Che Tempo che fa Però, nell'ultima, in un'intervista, quella uscita su Repubblica Per promuovere appunto Welcome to Miami Max ha detto che vuole chiudere l'album entro quest'anno E appunto, come dichiarato, sta completando i provini Quindi ragazzi, l'album non sta a zero Sta quindi a un buon punto Probabilmente ci sono alcune canzoni forse già pronte Però, diciamo, entro quest'anno dovrebbe chiudersi, diciamo, il cerchio in fase di realizzazione Poi, quando uscirà nel 2020, non lo sappiamo Ci sono tante cose da considerare Probabilmente forse uscirà nella prima metà del 2020 a questo punto Se l'album nel 2019 viene terminato come previsto Detto ciò, passiamo al singolo Welcome to Miami Riguardo questo nuovo singolo estivo del nostro Max Volevo toccare diversi aspetti Prima di arrivare a parlare della canzone in sé Diciamo, la prima tematica risale a Quando è stata annunciata la canzone Quando doveva uscire Questa, diciamo, questo nuovo inedito Del nostro Max Quando ancora non si sapeva nel titolo, nella data E vedevo già molte persone che criticavano Ecco, io volevo soffermarmi su tutti questi fan Che hanno criticato, a prescindere lo fanno ancora Purtroppo Negli ultimi anni Per via, secondo me, di tutte queste scelte Sbagliate O comunque di tutte le scelte sbagliate Che lo staff di Max ha fatto Hanno creato un clima negativo Che va a influenzare Il giudizio delle persone Hanno creato, tra virgolette, della tensione Quindi ogni cosa che andrà a fare Max Come pubblicare una nuova canzone, un nuovo album Si parte già con Diciamo, mettiamo le mani avanti Non tutti, ovviamente Molti però Un buon numero Mi rendo conto, purtroppo Però secondo me è sbagliato Tu non puoi criticare una canzone a prescindere Dal nulla Senza avere nulla in mano O solo dal titolo Cioè, è assurdo Veramente è assurdo Pensiamo a canzoni come Non lo so Il Grande Incubo Ma anche l'Universo Tranne Nove Cioè, come fai a giudicare Delle canzoni solo da un titolo? Cioè, non ha proprio senso Quindi volevo soffermarmi, ecco, come primo aspetto Su queste critiche infondate Poi, una volta che esce la canzone Mi puoi dire La canzone non mi piace magari per questo motivo Ma lì è soggettiva la cosa Però non lo puoi fare prima Ecco, quello, diciamo, non lo accetto Secondo me non va bene a prescindere La seconda tematica legata a Welcome to Miami Riguarda anche qui una certa tipologia di fan Che Io mi rendo conto di Diciamo, di queste tipologie Perché ci commentano sotto i post E non è uno o due Ma è anche un bel numero Quindi capisco che c'è proprio Una Non è una problematica di fondo Però c'è proprio una situazione comune di fondo Per alcuni, ovviamente E volevo parlare di quei fan Che legano l'uscita di una canzone All'uscita di un album Purtroppo O comunque I tempi cambiano E da questo punto di vista Ci sono grossi cambiamenti Rispetto a qualche anno fa Oggigiorno In particolare i rapper Ma non solo Anche la stessa Dolce Nera Che l'anno scorso ha fatto uscire una canzone Ma senza poi promuovere l'album Ha fatto uscire anche un altro inedito Senza poi far uscire l'album Ecco Dobbiamo entrare in questa mentalità I fan di Max Noi fan di Max Siamo sempre stati abituati Che usciva il singolo Allora esce anche l'album Poi ci sono i vari stratti Ecco Ora non funziona più così Spesso Si fanno uscire tanti singoli Ognuno con una vita a sé Poi si può magari uscire l'album Uno Due inediti Poi basta Oggigiorno Oggigiorno la vita Il ciclo di vita di un album È molto più distretto rispetto a prima Perché c'è proprio un'esigenza Da parte del pubblico Di ascoltare musica C'è Una saturazione da questo punto di vista Che non puoi far uscire Come facevi uscire negli anni 90 In particolare ovviamente degli 883 Tutti i singoli Tutto l'album Cioè è proprio una cosa Che ora Non va più bene Non è possibile Perché la gente Tra virgolette Si stanca subito Delle canzoni Ha sempre Questo bisogno Quindi Quei fan che dicono Eh ma l'album Ora che me lo fa uscino Il 2020 Questo singolo Che senso ha Il senso è che sono magari Sono due cose diverse Max l'ha fatto Anche come appunto Diceva nell'articolo Ha detto Che questo singolo Non era Diciamo Previsto Fino a qualche tempo Poi magari In qualche intervista Avremo ulteriori informazioni Da questo punto di vista Non era previsto L'ha fatto uscire Perché magari appunto Se l'album usciva Diciamo a gennaio 2020 Questo singolo Era morto in partenza Non poteva rientrare nel progetto Non so se Welcome to Miami Ci sarà Nel nuovo album Però appunto Dobbiamo entrare in questa Nuova mentalità Che far uscire Un singolo Non significa Che lo stesso Andrà ad anticipare Un album Imminente Anche le canzoni La radio Nel 2017 Se ci pensate Era Un singolo Un inedito Uscito Per l'estate Senza Anticipare un album Che poi alla fine L'album Uscito lo stesso E' un conto Però anche come avete Potuto sentire Quel singolo Non era Non voleva Anticipare nulla Infatti Non si è parlato Dell'album In quel periodo Diciamo estivo Quindi entriamo in questa Nuova mentalità Ragazzi Che far uscire Un singolo Non significa Anticipare Prepararsi Per un album Oggigiorno I rapper Fanno tanto Così Fanno Fanno uscire Tanti inediti Diversi E poi magari Fanno uscire Un album Quindi Spero di essermi Spero di essere Stato chiaro Da questo punto di vista E passiamo Con l'altra tematica Legata a Welcome to Miami Questo aspetto Legato Al Nuovo Tormentone Estivo Di Max Pezzali Si ricollega Un po' A Vecchi video Che avevamo fatto Infatti Analizziamo La situazione Da un punto di vista Di marketing Di quello Che è stato fatto E di quello Che si farà Perché Ricordiamo Che ora Non bisogna Fermarsi Cioè Sì Ok E' uscito il singolo Ora bisogna Spingerlo Abbiamo anche bisogno Diciamo Di voi Cioè Dobbiamo rimanere uniti Per sostenere Max Però ecco Io mi aspetto Da parte Dello staff di Max Di promuovere il singolo Però Visto che non possiamo Vedere Per vedere il futuro Vediamo Cosa è stato fatto Allora Mi sono fatto Una piccola scaletta Come è iniziato Tutto quanto Cerco di essere Un po' sintetico Non entro Troppo nei dettagli Con date E giorni Iniziato tutto Con cecchietto Che pubblica Un post Sulla sua pagina Facebook Dicendo che Entro il fine giugno Non usciva il nuovo singolo Di Max Allora Secondo me Qui Ci può stare O non ci può stare Nel senso che L'avrei preferito Dal Dei social di Max Un Una notizia così Per creare Proprio più Suspense Proprio più Hype No? Nei fan Che dal profilo Di Claudio Cecchietto Anche perché Come vedremo anche dopo Nel momento in cui Tu Attraverso I social In questo caso I social di Max Fai un qualcosa In questo caso Annunci un nuovo singolo Poi i media Comunque le radio Tutti i notiziari Online Ti dedicano un articolo Come è stato fatto dopo E quindi Da questo punto di vista Ti fanno promozione Se non mi sbaglio La maggior parte Delle testate giornalistiche Ma anche Radio E quant'altro Non hanno dedicato subito Un articolo a Max Ma L'hanno fatto Qualche giorno dopo Quando Vabbè È stato pubblicato Un video di A che tempo che fa Però ci arriviamo dopo Quindi Claudio Cecchietto Pubblica Questo post Sulle sue pagine Facebook Poi Max Va a Nei giorni seguenti A Radio 105 A che tempo che fa A Radio 105 È andato a promuovere La sua campagna No? Del 5 per 1000 Contro le malattie Cardiovascolari Però questo è Diciamo un altro tema Quindi un aspetto Molto importante Non ha fatto Genno Sul nuovo singolo Se non mi sbaglio Si ha detto qualcosa Nel nuovo album Ma del nuovo singolo Non ha detto Nulla Allora Due sono le ipotesi O Veramente Non c'era ancora Dovevano decidere Forse Non lo so Anzi Non è vero Perché L'avevano già annunciato Che doveva uscire il singolo Quindi Sinceramente Non comprendo il motivo Perché Max Non abbia detto nulla Quindi Non ha detto nulla E cosa grave Cosa grave Non hanno neanche detto Della sua ospitata A Radio 105 Ce ne siamo accorti Noi il giorno dopo E qui ritorniamo A un vecchio tema Già affrontato precedentemente Che è Da questo punto di vista Ci sono alcuni gap Dello staff di Max Non comprendo il motivo Cioè Fai una storia Un post Per dire Sto andando a Radio 105 Non Non mi sembra Una cosa così difficile Da fare Però L'Opera Radio 105 Va a Che tempo che fa Anche lì In trasmissione Non dice nulla A riguardo Il nuovo singolo Parla dell'album Ma non dice nulla A riguardo Del Nuovo singolo Nel Diciamo Backstage Di che tempo che fa Un giorno dopo Un quale giorni dopo Viene pubblicato Un video In cui c'è Claudio Che sta camminando A un certo punto Si vede Max E anzi Diciamo Anche lì Comunicano L'imminente singolo Welcome to Miami Però ovviamente Non dicono Il titolo Un video Anche lì Fatto un po' così Mentre camminavano Qui Max Si vede un po' tagliato Vabbè Forse non c'era tempo Non lo so Certe cose Non riesco a spiegarmelo Però vabbè Quando Diciamo Questo Questo video Dopo qualche giorno Per Aumentare L'hype Sulle Sulla pagina Di Facebook Di Max E su Twitter Viene pubblicato Un pezzo Del logo Di Welcome to Miami Un po' come era stato fatto Con le canzoni La radio Però tipo No su Instagram No Quindi Alcuni social Si altri no Poi su Facebook Vabbè Dopo un po' di tempo E' stata ricambiata Sia la copertina Che l'immagine di profilo Con altre immagini Vabbè Anche lì Un po' Forse un po' di confusione Era stato pubblicato Per aumentare anche lì Un po' di hype E vabbè Fino qua ci sta Anche qui Ci sono stati quelli Che hanno criticato La sola immagine Però Da questo punto di vista Non ho tanto da dire Poi Max Varro il DJ Anche qui Max I social di Max Completamente In silenzio Sull'ospita Sua A radio DJ E anche qui Silenzio totale Sul nuovo Singolo Quindi Sostanzialmente Ci sono state Tre Apparizioni Radio 105 Che tempo che fa E radio DJ In cui Max Non ha detto nulla Sul singolo Nonostante Sui social Si era parlato Quindi C'era un potenziale Di pubblico Da raggiungere Almeno con questa notizia Veramente elevato Che non è stato raggiunto Perché non è stato detto Nulla Comunque Dopo Radio DJ Ecco Qui arriva una cosa Veramente Secondo me Molto grave Tra la notte Del 15 giugno E il 16 Quindi era Un sabato Verso le 2 di notte Si annuncia La data Di uscita Di Welcome to Miami Come è stato fatto Tramite Se non mi sbaglio Solo Facebook Ricondividendo Il video Di Che tempo Che tempo che fa Di qualche giorno Prima Scrivendo Che il singolo Usciva il 21 giugno Alle 2 di notte Allora Facciamo questa premessa Secondo me Secondo me Le cose più importanti Che riguardano L'uscita di un singolo Prima Appunto Della pubblicazione Dello stesso Sono diciamo 3 2 più 1 Mettiamo Il titolo La data di uscita E poi magari Anche la cover La copertina Tu non puoi Secondo me Non si può Annunciare La data Che è una Delle cose Più importanti Ricondividendo Un video Alle 2 di notte Cioè Neanche Ce ne eravamo Accorti all'inizio Poi ce ne siamo Accorti L'abbiamo pubblicato E quindi poi Tutti Anche gli altri Fan club Ovviamente Non perché L'abbiamo condiviso Noi Diciamo Tutti quanti Ci siamo mossi E abbiamo Anche lì Informato i fan Però non puoi Farlo in questo modo Ci sono modi e modi Per procedere Ma Oltre che Secondo me Non ha senso Farlo a quell'ora No In quel modo Ci sono Degli aspetti Tecnici Proprio da prendere In considerazione Allora Da questo punto di vista Max I social Di Max Non appartengono A lui Ma appartengono A Facebook Instagram Youtube Ok Eccetera eccetera Ogni piattaforma Ha il suo algoritmo Ha i suoi criteri Faccio un esempio Banale Su Facebook Se tu pubblici Un video A livello organico Raggiungi Un tot di persone Se tu pubblici Un link A livello organico Ne raggiungi Molte di meno Perché Facebook Cerca di mantenere No? Gli utenti Sulla sua piattaforma Non vuole farli andare Altrove Quindi i link esterni Li riduce A livello di visibilità Detto ciò Tu non puoi Ricondividere un video Perché anche Proprio a livello Di visibilità Da questo punto di vista È molto più basso Cioè ci sono certi aspetti Che non vengono Proprio presi in considerazione Ma non è Ripeto una questione Soggettiva È oggettiva Cioè Se tu devi fare un annuncio Cerchi di arrivare Più persone possibili Non vuoi sponsorizzare L'annuncio Mi sta bene Però magari Invece di ricondividere Alle due di notte Aspetti il lunedì O anticipi Al venerdì Per dire Alle 14 Publi un bel video Una bella immagine Con una bella descrizione Arrivi molte più persone Cioè questo Il concetto Ci sono alcune regole Diciamo Da rispettare In questo caso Sui social Perché Ogni social Ha il proprio algoritmo Non è una cosa Che mi sto inventando Funziona così Ecco Poi Il 18 giugno Quindi arriviamo Verso la conclusione Vengono pubblicati Diciamo Un paio di video Nei vari social Di max Presi da un video Completo Per Anche lì Con lo scopo Di far indovinare Ai fan La canzone Anche lì Sì Forse si potevano Fare sicuramente Meglio Magari con qualche post Qualcosa più carina Però Va bene Qui non mi voglio Troppo soffermare Arriviamo All'uscita Del singolo Alla mezzanotte Ho notato Che i social di max Non hanno subito pubblicato Hanno pubblicato Non lo so Mi sembra dopo Mezz'ora Anche qui Non è una cosa Così grave Però Cioè Stiamo promuovendo Il singolo Magari Non so Prestiamo poco poco Più attenzione Alla mezzanotte Come fanno tutti Facciamo il post Sono state fatte Le storie Però Non hanno messo Lo swap up Su instagram E quindi Le hanno rifatte Tipo a luna di notte Io Io non voglio Soffermarmi troppo Sugli errori No Perché Anch'io Anche noi Possiamo sbagliare Però Poco poco Di più attenzione Ecco Solo questo Non chiediamo Tanto Però infatti Come cose positive Finalmente Le voglio dire Hanno messo Le gif Su instagram Di max Le hanno messe Tre Al momento Quindi usiamole Usatele Non le stiamo già usando Per diffonderle Anche se poi Effettivamente I social di max Non hanno detto nulla A riguardo Però fa niente Fa niente Hanno fatto una cosa bella Anche hanno fatto Le storie instagram Con la intro Il video Mi piace Mi piace Una cosa moderna Finalmente Da questo punto di vista Sono contento Spero che ci siano Ci sia Altro materiale Da promuovere Il Preparato Il Dovrà uscire Il videoclip Stanno già pubblicando Le Le prime foto Quindi Diciamo Da questo punto di vista Sono Sono contento Come ultimo aspetto Di Welcome to Miami Volevo un attimo Aggiungere Una mia riflessione Soggettiva Allora A molti Non è piaciuto A molti Si Personalmente Lo promuovo Ha rispettato Le mie aspettative Mi aspettavo Proprio un pezzo Così Non troppo impegnativo Quello che mi piace Di questa canzone Oltre al ritmo Alla musica E Come Max Racconta Cioè Nonostante Io non ho Mai Diciamo Percorso Un certo viaggio Max riesce A farmi Immergere Riesce Probabilmente A tanti altri In Completamente Nella canzone Cioè Io quando sento Quello Che sta dicendo In un certo momento Riesco Immaginarmelo Perfettamente E non è Una cosa Da poco E Quindi sono Sono contento Non è Il classico Tormentone Con Frasi Generiche Giusto Per fare Una commercialata Qui no Max Come al solito Ha voluto Sottolineare Il suo amore Per l'America Quindi sono contento Diciamo che Non so Se Verrà Inserito Dal pubblico Tra i pezzi Più Estivi Di quest'estate Perché ormai È diventato Veramente Un business Il tormentone Estivo Ormai lo fanno Tutti quanti E Rispetto a qualche Anno fa Veramente Sta diventando Un commercio A sé Da questo punto Di vista L'unica cosa Che possiamo fare È sostenere Max Ripeto Per me La canzone È promossa Quindi Bravo Max Il video Finisce qui Io vi ringrazio Probabilmente Forse È diventato Un po' Troppo lungo C'erano un po' Di cose Da dire Però Sono contento Ecco Se si arrivate Fino a questo Punto Grazie mille Vi ricordo Ancora una volta Di acquistare Max Quiz Link In descrizione E ci vediamo Un prossimo video Ciao ciao